Da lunedì 19 a domenica 25 novembre a Como torna la settimana dell'infanzia e dell'adolescenza. Le scuole, la Pinacoteca Civica e Villa Olmo ospiteranno numerose iniziative rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, ai loro genitori e familiari. Una manifestazione che nasce per ricordare la Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata il 20 novembre del 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La rassegna proporrà giornalmente spettacoli, giochi, laboratori creativi, incontri formativi, passeggiate creative in alcune aree verdi della città. Il filo conduttore della maggior parte delle iniziative sarà la corretta alimentazione, in linea con la Convenzione dei diritti dell'infanzia, che sancisce tra l'altro il diritto dei bambini ad avere un'alimentazione sana e adeguata. Scopo principale sarà quello di formare sulla prevenzione di alcune patologie croniche che possono insorgere durante l'infanzia e l'adolescenza. Tra le iniziative in programma, la piscina comunale Sinigalli, aperta tutta la settimana con ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 14 anni, accompagnati da un genitore pagante, un laboratorio di cucina per la preparazione divertente di una merenda sana, diversi laboratori creativi proposti nell'ambito della mostra Giuseppe Terragni per i bambini, l'asilo Sant'Elia, un cooking show con gara di cucina tra squadre composte da genitori e bambini, fino alla serata per genitori dal titolo Come supportare i nostri figli nella creazione di relazioni d'amore sane e rispettose. Tutti gli eventi sono gratuiti, in alcuni casi è necessaria la prenotazione. È possibile consultare il programma completo sul sito visitcomo.eu. Tutti gli eventi sono gratuiti, in alcuni casi è necessaria la prenotazione.